Quest'anno parliamo della crisi, tanto sono ormai passati cinque anni dal fallimento di Lehman Brothers, ormai da cinque anni, ahimè, continuiamo a parlare della crisi, questo significa che non ne stiamo uscendo e però vogliamo cogliere in questa occasione anche di positivo. La crisi non parliamo solo come diminuzione dei redditi, attacco al welfare state, aumento delle diseguaglianze sociali, questo per questa sera non ne parliamo e ho visto che è stata anche addobbata la sala apposta in Spe, e quindi nella speranza noi parliamo in termini di stasera ottimistici e positivi della crisi, nel senso che, no, ottimistici e positivi della crisi è un paradosso evidente. No, ne parliamo cercando di cogliere appunto della crisi un'occasione di ripensamento dal ruolo del consumatore, un'occasione di consumer empowerment e ne parliamo con una sociologa dei consumi raffinatissima che, tra l'altro, io ho una bibliografia sua del comportamento del consumo, teorie socio-antropologiche del 2010, mi pare dell'anno prima, i volti del consumo, ripensare i consumi in una società che cambia, dunque perfettamente attinenti al tema che trattiamo questa sera, su cui, peraltro, siamo in parte in disaccordo, ma ne discuteremo poi, immagino, più avanti insieme al vostro contributo. A te la parlo, la parola. Grazie. Dunque, io devo usare tutte e due, vero? Sì. Sì. Ok, grazie. Allora, sì, noi siamo in disaccordo, ma in realtà, quello che stasera dirò sono una serie di dubbi sul fatto che il consumatore stia imparando dalla crisi a cambiare il suo modello di consumo. Sicuramente non ci sono dubbi sul fatto che il consumatore stia cambiando il suo modo di consumare, però questi cambiamenti possono essere anche letti come una costrizione, cioè come una spinta da parte della crisi a ottimizzare la propria disponibilità di spesa, ottimizzare il proprio reddito e quindi una costrizione per il consumatore a cambiare abitudini e soprattutto a lavorare molto di più per consumare. Lavorare molto di più nel senso che deve guardarsi più intorno, deve cercare l'occasione migliore, deve scegliere il punto vendita in cui il prodotto che cerca è venduto a un prezzo minore, pur mantenendo lo stesso livello di qualità, deve rivolgersi all'e-commerce, deve rivolgersi a tutta quella pletora di luoghi della distribuzione che sono sorti e che sono proliferati nel periodo di crisi, gli outlet, per dirne uno, le stock house, la crescita dei discount, anche degli hard discount. e sicuramente tutti questi comportamenti nuovi che sono differenti rispetto a quelli del consumatore negli anni dello sviluppo, negli anni della società dei consumi, sono un dato di realtà. Io vi presenterò anche qualche dato di ricerche recentissime in cui appare molto chiaro che il consumatore sta cambiando le sue abitudini di consumo, che si attiva molto di più per i consumi. Quello su cui ho molti più dubbi è che cambi il modello di consumo. Per dirla in termini molto semplici, noi possiamo ipotizzare due possibilità. Una, che il consumatore stia cambiando i suoi comportamenti perché è costretto dalla crisi, ma se usciremo dalla crisi, se ci sarà di nuovo un momento di crescita, il consumatore si compenserà. Si compenserà di tutte le rinunce, di tutte le fatiche, di tutto il lavoro di consumo che ha svolto in questi anni di crisi e tornerà a essere invaso da questa euforia consumistica di cui si è parlato fino agli inizi degli anni 90. La seconda ipotesi invece è che i consumatori, comportandosi in modo diverso, proprio perché spinti e costretti dalla crisi stiano imparando che si può consumare in modo diverso e allora questa seconda ipotesi postula un diverso modello di consumo. Quindi postula che l'euforia consumistica venga abbandonata definitivamente dalla gran parte della popolazione e la maggioranza, insomma, dei cittadini stiano imparando a consumare in maniera più sobria, in maniera meno iper consumistica, soddisfacendo meno desideri e capricci, ma essendo molto più razionali. Io vorrei dire questo, che tre anni fa ho scritto in onore di Dario Romano, che era appena morto. Dario Romano è stato forse il più importante psicologo dei consumi italiani, con cui ho lavorato molto, un articolo su micro e macro marketing che si chiama proprio Consumatore apprendimento della crisi. E questo articolo, che non rinnego, in questo articolo, che non rinnego, sostenevo che il consumatore sta imparando un elemento molto importante, che è apparentemente paradossale, dire che è un elemento molto importante. sta imparando la sfiducia e giustificavo questo apprendimento della sfiducia su base empirica, su base concreta, sui dati a disposizione. In effetti gli italiani, la popolazione italiana, ha imparato progressivamente a non avere fiducia verso ambiti molto diversi, fino ad arrivare ai consumi. Direi che possiamo dire che a partire dai primi anni 90 è stata con Tangentopoli, ha imparato a non avere fiducia nelle istituzioni politiche, poi ha imparato a non avere fiducia nelle imprese e nelle banche, ci sono stati vari scandali che ovviamente hanno colpito i consumatori. Poi pian piano ha imparato anche a diminuire la sua fiducia nei confronti della distribuzione, che per anni invece è stata l'interlocutore più solido nei confronti del consumatore, apparentemente anche più amichevole nei confronti del consumatore. E quello che rilevavo in questo articolo è che progressivamente si è ristretto al raggio della fiducia, cioè che quello a cui si assiste facendo ricerca sui consumi è che i consumatori tendono a fidarsi molto di loro stessi e degli altri consumatori. Pensiamo ad esempio a tutti i blog, a tutti i siti, a tutte le modalità con cui i consumatori entrano in contatto tra di loro e si scambiano informazioni. Il che ovviamente crea anche dei rischi, perché insomma ci sono già dei casi, TripAdvisor ad esempio è sotto processo negli Stati Uniti, i rischi sono quelli di insiders, cioè di pseudo consumatore o consumatori prezzolati o finti consumatori che si inseriscono all'interno di questi luoghi virtuali e che forniscono informazioni distorcenti, informazioni che ci portano a fare delle scelte che sono sbagliate. Quindi in qualche modo bisognerebbe riprendere quell'articolo e incominciare a studiare anche la fiducia dei consumatori, la fiducia relazionale dei consumatori, la fiducia che esiste tra i consumatori e cercare anche di capire se questi fenomeni appunto di insiders presenti nei siti virtuali sta riducendo anche la fiducia reciproca che i consumatori hanno. Allora c'è un grande, direi il più grande sociologo neoclassico contemporaneo che è Anthony Giddens che ci dice che quando c'è un sistema in crisi come il nostro e non necessariamente soltanto in crisi economica ma in transizione, in trasformazione, in crisi che investe diversi ambiti, i cittadini hanno due strumenti a disposizione. Uno è quello della fiducia e l'altro è quello della riflessività. La fiducia sta diminuendo, cioè la fiducia si sta attenuando nei confronti appunto dei grandi pilastri che hanno retto le nostre società dovrebbe aumentare la riflessività. E sicuramente tutti quei comportamenti che ho citato prima, cioè il lavorare di più per consumare, l'essere più razionale nel consumare, ci dicono che sta aumentando la razionalità del consumatore. E io vorrei ragionare proprio su questo, fin dove aumenta questa riflessività e dove ci porta, cioè dove, verso quale modello di consumo può portare appunto questa riflessività che è il frutto di una crisi di sistema che investe sia al campo economico sia altri campi della vita sociale. Allora, io partirei da questa dicotomia che ho accennato prima. la crisi costringe i consumatori ad agire diversamente rispetto al passato e quindi i comportamenti dei consumatori si possono ipotizzare come reversibili. Appena avremo più soldi a disposizione, appena avremo meno paura del futuro, appena percepiremo di meno dei rischi di default, dei rischi di attacco al welfare, dei rischi di attacco alla previdenza, torneremo a consumare come prima. Oppure, come diceva al dottor Corniachi, in maniera molto ottimistica, la crisi rappresenta un'opportunità per costruire un nuovo modello di consumo che è quello a cui accennavo precedentemente. Noi siamo costretti ad agire in un modo diverso però scopriamo anche la bellezza di questo agire in modo diverso. Scopriamo che possiamo vivere senza alcune cose, scopriamo che le cose hanno una durata, scopriamo che anche se non appaghiamo un desiderio materiale siamo felici lo stesso. Insomma, nuovo modello di consumo vuol dire sostanzialmente questo, cioè capire che esistono delle altre possibilità di cercare benessere, qualità della vita che non passano attraverso gli oggetti di consumo. Allora, io per ragionare su queste due ipotesi e vi anticipo già che non arrivo ad una soluzione, non lo so dove effettivamente andremo a finire, vi presento però un dato che secondo me è veramente interessante. questo dato proviene dall'ultima ricerca sul risparmio degli italiani che è promossa annualmente dal centro Inaudi e dal gruppo Intesa San Paolo. Siccome siamo in tempo di crisi questa ricerca da tre anni a questa parte indaga anche sulla riduzione dei consumi e sulla destinazione di spesa dei redditi degli italiani. si tratta di un campione nazionale non enorme ma con una rappresentatività sufficiente e noi ci accorgiamo che gli italiani perché possiamo parlare di popolazione nazionale tagliano su tutti i settori di spesa. I consumi giornalieri io l'ho messo in questa forma sintetica comprendono sostanzialmente i beni di largo consumo quindi l'alimentazione i detersivi i prodotti per la casa eccetera eccetera allora noi vediamo che ci sono dei tagli molto ampi su tutti questi settori di consumo paradossalmente ci possiamo anche stupire perché le vacanze vengono tagliate del 21.6% mentre invece i consumi giornalieri del 68.9% in realtà questi tagli sono i tagli dell'ultimo anno e quindi possiamo anche ipotizzare che gli italiani abbiano precedentemente tagliato sui settori che riguardano i cosiddetti beni superflui però nonostante questo vediamo questo grossissimo taglio su beni che gli economisti direbbero beni necessari beni di primaria necessità e questi dati qui confermano tutte le ricerche sui consumi che sono state fatte nei periodi di crisi a partire dalla grande depressione è quasi una legge sociologica le prime ricerche sono state compiute tra il 38 e il 41 del 900 da Maurice Holbox negli Stati Uniti d'America e hanno dimostrato che quando gli individui hanno raggiunto un certo tenore di vita mostrano una fortissima resistenza alla discesa come la chiamiamo noi sociologi cioè tornare indietro a rinunciare a dei beni che erano stati superflui sono diventati dei beni quotidiani di consumo quotidiano e che vengono ritenuti necessari e questa tendenza questa resistenza alla discesa è ampiamente confermata ancora nel 2012 dalla ricerca intesa a San Paolo Centro e Inaudi il che ci fa dire che abbandonare il modello di consumo che noi abbiamo faticosamente raggiunto negli anni dello sviluppo è molto difficile c'è una forte resistenza di questo modello perché tutti noi attraverso la realizzazione di questo modello abbiamo migliorato la nostra qualità della vita perlomeno percepiamo di aver migliorato la nostra qualità della vita il che rende molto difficile cambiarlo ma quello che gli italiani stanno facendo è via di ridurre di spendere di meno in tutti i settori vedremo poi che ci sono anche dei problemi gravi legati a questi tagli a questi tagli di spese ma insomma di spendere meno in tutti i settori ma di mangiare un po' meno o un po' peggio ma comunque magari di fare un weekend via oppure di curarsi di meno ci sono dei dati assolutamente devastanti sulla rinuncia alle cure mediche non di questa ricerca ma di altre ricerche sulla vulnerabilità finanziaria degli italiani e dicevo magari di rinunciare a delle cure di accurare se stessi però continuare ad andare a mangiare la pizza fuori ogni tanto insomma necessario e superfluo sono dei concetti molto soggettivi ma soprattutto sono dei concetti molto determinati culturalmente e tutti noi abbiamo nel nostro paniere dei beni che visti da fuori appaiono come superflui ma che tutti noi consideriamo necessari lo stesso Istat ha inserito nel paniere di cittadinanza il tablet che insomma visto dal punto di vista della distinzione tra necessario e superfluo è palesemente considerabile un bene superfluo ma in realtà invece è un bene di cittadinanza è un bene che ci mette in comunicazione con gli altri quindi soggettivamente per molti di noi è un bene essenziale allora per provare a ragionare su queste due ipotesi reversibilità e irreversibilità dei comportamenti di consumo durante il periodo di crisi io ho provato a definire proprio in termini essenziali di che cosa stiamo parlando cioè dei due modelli di consumo di cui si discute quello che abbiamo sviluppato durante gli anni del boom economico e negli anni successivi fino ai primi anni 90 è quello che invece si prospetta appunto in modo ottimistico come un modello di consumo più razionale più sobrio e più mirato alla persona e non ai beni allora la crescita che è il modello di sviluppo su cui l'Occidente non soltanto l'Italia ha costruito le sue fortune presuppone uno sviluppo illimitato e presuppone anche che il benessere delle persone si misuri attraverso la crescita dei consumi che devono essere non soltanto sempre maggiori ma anche sempre migliori quindi la crescita si basa su un aumento della quantità e della qualità dei consumi credo il più importante sociologo dei consumi italiano Giampaolo Fabris proprio che è mancato due anni fa l'anno prima di morire ha pubblicato un libro importante che si chiama la società della post crescita che si contrappone a questo termine post crescita si contrappone appunto alla crescita e si contrappone non perché mette in discussione il modello di sviluppo o demonizza i consumi non è un modello anticonsumista ma è un modello che presuppone un indirizzo diverso al nostro agire di consumo e sostanzialmente presuppone che i nostri consumi siano più centrati sull'essere quindi sulla persona sull'umanesimo sull'umanità e molto meno sull'avere e quindi presuppone anche che si correggano tutte le storture dell'iperconsumismo e dell'edonismo che ha accompagnato gli anni dello sviluppo e quindi quello che io vorrei fare stasera è cercare di verificare se ci sono dei segnali di consolidamento di questo modello della post crescita ovvero sia se i nuovi comportamenti di consumo di cui abbiamo parlato all'inizio confluiscono nell'affermazione di questo nuovo modello allora cercando di sintetizzare al massimo le dimensioni principali di questo modello della post crescita sono cinque la prima è che il prezzo non segnala più con certezza la qualità di un bene quindi che noi consumatori siamo capaci a distinguere la qualità di un bene indipendentemente dal suo prezzo non è vero che ciò che è più caro è migliore in sostanza se la seconda dimensione è che lo spreco è un disvalore mentre la durata dei beni è un valore e l'usato ha un suo mercato quindi non si butta più via ma si ricicla quindi sì i beni hanno una vita molto più lunga e passano di mano in mano la terza dimensione è che la proprietà declina a favore dell'accesso quindi che non è importante possedere un bene ma che è importante poterlo usare quando serve la quarta dimensione è che la sostenibilità ambientale è una dimensione della qualità e che quindi i beni sono di qualità quando non sono dannosi non sono nocivi rispetto all'ambiente e infine la quinta dimensione è che l'etica è una dimensione della qualità cioè che di nuovo i beni sono di buona qualità quando sono prodotti rispettando i diritti dei lavoratori e rispettando i principi etici che regolano le relazioni umane nei paesi civili allora io ho provato a raccogliere tutti i dati più recenti mi sono anche divertita quindi ringrazio per questo invito perché mi ha dato l'opportunità di andare un po' a pescare negli ultimi sondaggi nelle ultime survey sui consumi i dati che riguardano queste diverse dimensioni allora ricordiamo che la prima dimensione è che il prezzo non è messo in relazione con la qualità ovvero sia che non è più un segnalatore un marker della qualità della qualità dei beni allora i dati più significativi che ora vi propongo per discutere questa dimensione sono quelli che sono segnati appunto in queste slide il 12.3% delle famiglie acquista prodotti alimentari negli hard discount regolarmente ovviamente che il volume d'affari dell'hard discount è cresciuto del 2.6% tra febbraio ed aprile 2013 mentre negli altri punti vendita in questo periodo è sceso del 2.3% gli acquisti negli outlets sono aumentati del 6.5% da gennaio a giugno 2013 mentre sono diminuiti dal 5.6% degli altri canali distributivi già qui mi viene un po' un dubbio perché gli altri canali distributivi vengono analizzati vengono analizzati non nei periodi dei saldi cioè nel senso che gli altri canali distributivi da febbraio a giugno colgono soltanto l'ultimo periodo di saldi di febbraio e non invece quelli dei saldi estivi però sicuramente questi dati hanno una loro rilevanza e gli acquisti online sono aumentati del 7% tra aprile e luglio del 2013 quindi abbiamo dei forti segnali che i consumatori ritengano di conoscere la qualità di un oggetto senza ricorrere dei marker quindi senza fidarsi del prezzo senza fidarsi della marca ma fidandosi di se stessi quindi empowerment del consumatore maggiore consapevolezza maggiore capacità da parte del consumatore di poter scegliere però c'è un però un tuttavia intanto c'è un allarme col diretti molto significativo ovvero sia che nel 2013 a fronte dell'aumento di acquisti negli hard discount e a fronte anche dell'aumento su cui non ci sono dati perché si tratta di consumi in nero ammesso che si possa parlare di consumi in nero di consumi di cose un po' strane tipo il pane rumeno portato dai furgoni prodotti cibi pronti anche questi venduti attraverso circuiti di strada eccetera eccetera col diretti segnala appunto che nel 2013 in questo pezzo del 2013 sono aumentati gli allarmi alimentari e questi allarmi alimentari sono tutti allarmi che sono riferiti alla diffusione appunto dei cibi low cost poi c'è un altro dato che secondo me è rilevante per discutere questa dimensione è quello che noi chiamiamo il digital divide cioè quando noi diciamo i consumatori si rivolgono a internet e l'e-commerce sta crescendo internet è la nuova strada per rendere il consumatore più autonomo più consapevole più capace di scegliere eccetera eccetera e non dimentichiamo che in Italia solo il 53% della popolazione usa regolarmente internet il 38% non l'ha mai usato il che significa sostanzialmente che stabiliamo un'altra disuguaglianza non soltanto di reddito non soltanto di cultura non soltanto di relazioni sociali ma anche appunto di accesso alla rete e attraverso la rete di possibilità di consumo più razionali più consapevoli la seconda dimensione è quella dello spreco che viene considerato un disvalore mentre la durata è un valore anche qui ci sono dei dati che sostengono l'affermazione di questo valore di questi nuovi valori i rifiuti totali pro capite in Italia si sono ridotti dal 550 kg all'anno del 2006 al 502 del 2012 c'è una ricerca Nielsen del 2013 che dice che il 48% quindi la metà degli italiani fa la spesa più spesso per avere cibo fresco in base alla necessità per ridurre gli sprechi alimentari che il 42% compra meno alimenti e bevande facilmente deperibili che il 36% acquista prodotti con una data di scadenza più lunga quindi presta maggiore attenzione alla data di scadenza e che il 32% cucina cibo in quantità e poi lo surgela in porzioni e quindi regola il flusso del cibo sulla propria tavola recentemente c'è stato il forum di Coldiretti a Cernobbio che ha segnalato una riduzione degli sprechi alimentari anche se il dato non è disponibile questo l'ho preso dalla rassegna stampa ma la ricerca non è ancora disponibile e FinDomestic sostiene che nel primo semestre del 2013 circa il 48 circa il 50% degli italiani o ha fatto o intendeva fare ricorso al mercato dell'usato per l'acquisto di beni durevoli quindi tutti questi segnali ci dicono che i consumatori mostrano una maggiore sobrietà e una maggiore attenzione per il valore d'uso degli oggetti quindi per la durata per la riparazione eccetera eccetera su queste dimensioni qui andiamo molto vicini cioè dalla post crescita sfumiamo molto da vicino nella decrescita perché tutti questi segnali sono dei segnali che vanno nella direzione delle 8 R di Serge Latouche cioè riciclare recuperare riparare eccetera eccetera quindi insomma siamo in un'area un po' a cavallo tra la post crescita e la decrescita tuttavia lo voglio dire ne abbiamo discusso l'altro giorno col dottor Corgnati sprecare meno far durare di più gli oggetti implica un grande lavoro di consumo cioè nel senso che ci vuole fare la spesa più spesso cucinare per surgelare riparare gli oggetti eccetera eccetera implica che intorno a queste attività ci sia del tempo ci siano delle energie ci siano delle disponibilità e questo lavoro di consumo colpisce soprattutto le donne e questo lo vorrei dire perché soprattutto se parliamo appunto di lavoro di consumo nel campo alimentare l'Istat ci dice che la spesa alimentare e la preparazione degli alimenti è delle donne per l'87% quindi sostanzialmente vuol dire gravare molto di più aumentare molto di più il lavoro che già stanno facendo le donne ne abbiamo discusso l'altro giorno lo voglio dire anche qui questa come dire questi comportamenti questi valori hanno un senso soltanto se l'attività di consumo se il lavoro di consumo è condiviso perché altrimenti di nuovo accentuano accentuano disuguaglianze la terza dimensione è la sostituzione della proprietà con l'accesso quindi l'importanza di usare i beni e non di possederli qui veramente non ci sono dati nazionali esistono dei dati molto frammentati io ho preso i due esempi più tipici più diffusi più conosciuti dell'accesso che perché altrimenti andiamo sul noleggio delle barche oppure sul noleggio di attrezzature costose che però non entrano proprio nel discorso della crisi della sobrietà che sono car sharing e bike sharing non sono disponibili dati nazionali però insomma guardando i dati città per città si vede che queste iniziative hanno un andamento molto lento non sono iniziative fallimentari sicuramente destano una certa curiosità destano un certo interesse ma faticano a decollare insomma non c'è una una corsa né verso il car sharing né verso il bike sharing la penultima dimensione è che la sostenibilità è una dimensione della qualità dei prodotti come dicevo prima essere nella post crescita utilizzare cioè riferirsi al modello della post crescita elaborare il modello della post crescita significa acquistare i beni valutando dal punto di vista qualitativo anche la sostenibilità ambientale cioè un bene di buona qualità quando non è nocivo per l'ambiente anche qui ci sono molti dati a disposizione perché questo è un tema molto di moda viene studiato ampiamente soprattutto c'è una ricerca recentissima del nomisma che dice che il 63% dei consumatori italiani ha delle cognizioni precise del fatto che i prodotti che compra e utilizza hanno impatto sull'ambiente e da qui nomisma postula che il 63% degli italiani ha coscienza ambientale contro una media di consapevolezza europea del 55% dal 2005 al 2013 i consumi di prodotti biologici sono aumentati quasi del 60% e il 75% dei consumatori ritiene che gli aspetti ambientali siano importanti nel consumo il 17% compra prodotti ecologici compra vuol dire che negli ultimi sei mesi ha comprato almeno un prodotto ecologico io potrei aumentare moltissimo questi dati ad esempio potrei dirvi che tutte le ricerche sui consumatori che chiedono se i consumatori sarebbero disposti a pagare di più per inquinare di meno i consumatori rispondono di sì dopodiché però la letteratura ci insegna che la differenza tra le intenzioni e i comportamenti effettivi è una differenza molto significativa però tutti questi segnali ci possono portare a dire che i consumatori hanno sviluppato una coscienza ecologica e che la applicano nei consumi tuttavia tuttavia ci sono dei però il primo però è che la consapevolezza ambientale è molto alta a livello di intenzione perché se noi andiamo a vedere queste forti crescite di consumi di prodotti ecologici e poi andiamo a vedere i volumi sul totale ci impressioniamo anche un po' i consumi bio sono cresciuti con una percentuale molto alta però nel 2012 il peso dei consumi alimentari bio era dell'1,50 1,5 sul totale dei consumi alimentari quindi crescita molto alta su volumi molto piccoli la sostenibilità ambientale noi abbiamo fatto una ricerca anche con la regione Piemonte sulla percezione della qualità alimentare e anche le ricerche europee lo confermano anzi noi abbiamo confermato quello che era stato studiato a livello europeo rispetto alla qualità alimentare la sostenibilità non è una dimensione rilevante della qualità cioè viene molto dopo il gusto la salute eccetera eccetera quindi insomma è uno degli indicatori meno rilevanti nella individuazione della qualità alimentare e poi esistono dei fenomeni che sono di moda e di consumo distintivo cioè di differenziazione sociale e effettivamente sia Slow Food sia poi gli itali hanno trainato molto i consumi di prodotti legati in qualche modo alla natura alla tradizione molto difficile capire appunto se è una moda effimera oppure se è un tratto che si consoliderà e darà luogo a nuove modalità di consumo infine l'ultima dimensione è che l'etica è una dimensione della qualità anche qui ci sono pochissimi dati a disposizione perché molto spesso nelle ricerche sociologiche sui consumi ma anche nelle ricerche di marketing sui consumi etica e sostenibilità vengono messe insieme quindi noi ci troviamo di fronte a dei dati in cui non sappiamo la composizione cioè non sappiamo se prevale l'etica o prevale la sostenibilità io credo sulla base poi di confronti con ricerche specifiche possiamo dire che sicuramente la sensibilità ambientale è più elevata rispetto a quella verso i diritti dei lavoratori però insomma è molto difficile poi avere dei dati oggettivi con cui confrontarsi di nuovo abbiamo una ricerca Nielsen del 2012 che ci dice che quasi il 50% degli italiani sarebbero disposti a premiare i prodotti di imprese etiche anche qui abbiamo un'intenzione ma non abbiamo invece dati su comportamenti un altro elemento a favore dell'acconsolidamento di questa dimensione è che crescono i gruppi d'acquisto solidale e crescono le botteghe dell'eco e solidale nel 2013 sono già 900 un mese fa erano già 900 contro le 800 del 2012 anche qui c'è un tuttavia cioè che le indagini mostrano le intenzioni e non i comportamenti che di nuovo nelle ricerche sulla qualità alimentare l'etica non è proprio quasi per nulla un indicatore di qualità a livello europeo l'etica a grosso modo è scelta dal 5% come indicatore della qualità alimentare e che anche in questo caso esistono fenomeni di moda e di consumo e di consumo distintivo allora io vorrei concludere così chiedo scusa ai miei studenti qui ce n'è qualcuno perché ne abbiamo discusso l'altro giorno a lezione vorrei concludere così andando cercando di capire questi comportamenti di cui abbiamo parlato dove si concentrano rispetto alle diverse tipologie di consumatori che possiamo riconoscere nella nostra società allora io ho provato a costruire questo schema che è uno schema che viene costruito su due assi uno è quello del mercato in cui spero che lo vediate c'è un meno e c'è un più e che indica il livello di partecipazione al mercato quindi il livello di consumismo o di anticonsumismo quindi iper consumisti verso il più e anticonsumisti verso il meno l'altro è l'asse della riflessività cioè di quello che dicevamo prima il dover pensarci prima di consumare l'essere più razionali scegliere con maggiore consapevolezza scegliere sulla base di maggiori informazioni anche qui c'è un meno in basso e un più in alto con questi due assi si costruiscono quattro quadranti in cui si possono collocare diverse tipologie di consumatori allora nel quadrato in basso per voi a destra c'è una tipologia di consumatori che ho chiamato consumatore dello sciame utilizzando una etichetta che usa Bauman che è uno dei più importanti sociologi contemporanei consumatore dello sciame perché si tratta di consumatori iper consumisti lo sciame dà molto l'idea dello svolazzare di bene in bene di desiderio di desiderio di capriccio in capriccio quindi seguendo i propri impulsi acquistando in maniera poco razionale seguendo le mode l'effimero eccetera eccetera e ovviamente questa tipologia partecipa molto al mercato ma ha un basso livello di riflessività al di sopra del consumatore dello sciame c'è invece la figura in cui questi segnali che abbiamo visto prima con i dati che vi ho presentato sono più significativi e si tratta del cosiddetto consumatore raccorto consumatore scaltro o consumatore all'attacco insomma è stato chiamato in tanti modi cioè un consumatore che non è anticonsumista che partecipa molto al mercato ma che ha subito o ha partecipato a questo processo di empowerment ha aumentato il suo potere ha ridotto la simmetria informativa nei confronti della produzione e della distribuzione e ottimizza la sua capacità di spesa attraverso le sue competenze attraverso le sue informazioni attraverso la sua consapevolezza attraverso la sua capacità di saper scegliere dall'altra parte dello schema abbiamo invece delle figure delle tipologie di consumatori che sono o fuori dal mercato o per necessità insomma per condizione sociale oppure poco partecipative rispetto al mercato per scelta valoriale quindi per modelli culturali antagonisti diversi rispetto al modello dominante in basso abbiamo le nuove povertà di nuovo è una definizione di bauman ci sono quelli che non possono consumare ma che hanno un asset valoriale che li porterebbe a consumare se avessero maggiore disponibilità di spesa mentre nella parte superiore dello schema abbiamo diverse forme o tipologie di consumatori critici che vanno appunto da un consumo critico rispetto a certi aspetti della società dei consumi a situazioni di alter consumo antagonista cioè anticonsumisti insomma il modello della decrescita felice di Latouche che ho citato prima è appunto un modello che si riferisce a scelte di vita anticonsumiste ma anche rifiuto a livello sistemico del modello di consumo dominante allora visto questo vediamo dove si concentrano i segnali che abbiamo visto prima c'è la crescita del bio l'autocertificazione della qualità dei prodotti il ricorso al mercato dell'usato l'attenzione allo spreco eccetera tutti questi segnali che sono i segnali della post crescita appunto le dimensioni della post crescita si concentrano nella parte superiore dello schema c'è ti medi persone con un elevato livello di istruzione persone con buone relazioni persone connesse cioè con capacità di usare di usare la rete con asset valoriali orientati religiosamente oppure politicamente mentre invece questi segnali sono quasi assenti se andiamo a vedere poi le caratteristiche dei consumatori nella parte bassa dello schema e siccome a livello quantitativo tutti noi sappiamo che le povertà l'area delle povertà è in crescita e insomma gli iper consumisti sono ancora sono ancora tanti sono ancora maggioritari possiamo dire che i segnali della post crescita sono minoritari ma in qualche modo vorrei dire classisti se vogliamo cioè concentrati appunto su ceti sociali con caratteristiche di elite almeno dal punto di vista culturale se non dal punto di vista del reddito allora vado a chiudere perché ho chiacchierato molto ma prima vi dicevo concluderemo con un dubbio allora la letteratura le ricerche ci insegnano che dove si crea una leadership e qui ci sono dei ceti sociali che sono in grado di esercitare una leadership ci possono essere dei follower ci possono essere dei seguaci quindi possiamo anche pensare che questa concentrazione della post crescita tra i giovani tra coloro che hanno un elevato livello di istruzione tra i ceti medi tra coloro che hanno certi orientamenti politici religiosi possa essere come dire questi gruppi di persone possono essere un crogiolo un ambiente in cui si sta elaborando un modello di consumo che potrà diffondersi secondo il meccanismo innovazione e imitazione però nulla ci garantisce che sarà così cioè in Italia è già successo una cosa così è successo nel 68 negli anni successivi in cui gruppi sociali con le stesse caratteristiche avevano questa caratteristica di forti innovatori ma non hanno trovato follower sufficienti per cambiare effettivamente il modello di sviluppo il modello di consumo il modello di vita della nostra società quindi ci troviamo in una situazione secondo me abbastanza facilmente paragonabile cioè una situazione in cui si stanno elaborando delle esperienze nuove queste esperienze nuove sono anche embrioni di modelli nuovi di consumo però effettivamente non abbiamo nessun dato concreto oggettivo che ci faccia dire che cosa succederà nei prossimi dieci anni in più in più abbiamo un altro elemento che è quello della crescita un'altra variabile quella della crescita cioè noi effettivamente non sappiamo se la ripresa economica ci sarà e di che entità ci sarà e quindi quanto l'eventuale ripresa economica potrà a sua volta influire su questi su questi meccanismi grazie quindi fra le tre ipotesi wishful thinking opzione ideologica e probabile evoluzione dei consumi tu mi pare tendi ad accreditare la prima wishful thinking una più illusione io penso io penso che noi studiamo tutti noi siamo molto colpevoli perché noi studiamo i consumatori credo che noi per capire dove stiamo andando dovremmo studiare le nuove povertà cioè noi dovremmo studiare i poveri perché sono quelli che non possono consumare quindi non ci danno segni ma dovremmo studiare i valori di queste perché la ripresa porta a questi signori qua molti li porterà se ci sarà molti di questi signori qua a rientrare nel mercato e ovviamente rientreranno nel mercato sulla base di quello delle loro opinioni dei loro valori dei loro atteggiamenti dei loro modelli bene io vi inviterei visti gli spunti infiniti che si possono trarre dalla tua relazione a interloquire cioè molte affermazioni sono suscettibili di critica se non lo fanno loro poi lo faccio io però prima volevo un vostro riscontro se qualcuno ritiene di dissentire o di aderire ecco a questi spunti i miei studenti aderiscono ecco per forza sicuramente aderiscono senti una cosa dunque tu che sei una studiosa di marketing ecco mettiamoci dal punto di vista dell'azienda è vero o non è vero che le aziende si stanno orientando proprio in considerazione dell'evoluzione vera o presunta insomma di queste tendenze di consumo ad un'accentuazione delle valenze etiche ambientali dei loro prodotti non so rispondere cioè nel senso che le aziende dicono sì le aziende dicono che si stanno orientando e quindi questo dovrebbe al contrario confermare se lo dicono le aziende che sono interessate a vendere i loro prodotti vorrebbero andare in questo modo incontro all'evoluzione del consumo quindi la diffusione di valenze etiche ambientali dei prodotti che altrimenti non giustificerebbero un'enfatizzazione vera o presunta delle qualità ambientali ed etiche infatti io non voglio negare che si possa consolidare questo modello in questo momento credo che non sia possibile distinguere tra una moda una moda e quindi le aziende rispondono oppure appunto un drive che cambia c'è proprio una sterzata verso altri modelli di consumo quindi la questione del greenwashing è ancora tale cioè è davvero solo una imbellettatura fatta per soddisfare ma no perché ci sono anche delle nicchie che vogliono come dire contenuto green delle nicchie però per il momento cioè quello che voglio dire è che insomma noi troviamo delle citazioni della sostenibilità oppure dei contenuti di sostenibilità quando leggo appunto su un detersivo biodegradabile al 38% no quella è una citazione va incontro a una istanza abbastanza diffusa per cui il consumatore si sente meno in colpa se compra se compra quel prodotto lì però è una moda o è effettivamente un tratto culturale che potrà diffondersi a livello di tutta la popolazione cioè io tenderei a dire che quando cioè che Slow Food o anche Italy sono i figli del mulino bianco ma non perché dal punto di vista del contenuto sono simili ma perché l'invenzione della tradizione ha portato l'invenzione della tradizione attraverso le citazioni no del mulino bianco ha portato ad una moda per cui ciò che è tradizionale vale di più no per noi consumatori soprattutto nei consumi alimentari ciò che è tradizionale vale di più no ma il tradizionale si declina col presidio dello Slow Food e si declina con la marmellata a bomba ma anche ha in test sul tappo il fazzolettino a quadretti tutte e due richiamano la tradizione ma sono due cose completamente diverse no ecco proprio sui consumi alimentari che forse sono il settore più suggestivo per analizzare le tendenze del consumo tu hai citato il bio che certo ha avuto un incremento notevole ma su volumi sei ridotti ci sono altri aspetti però che non hai citato quali i farmer market i chilometri zero gli acquisti diretti in azienda che forse come dire irrobustiscono la tesi rendono più plausibile la tesi che almeno in ambito alimentare vi sia una corrente che non è circoscritta all'1,58% dei volumi dei prodotti bio venduti ma interessa forse una platea più rilevante di soggetti ma questo è vero è sicuramente una platea più rilevante io non ho messo quei dati lì perché sono molto controversi nel senso che ci sono ricerche su settori diversi farmer markets chilometri zero acquisto diretto eccetera in periodi diversi quindi è difficile fare una una somma e dire a grosso modo qual è il volume dei consumi alimentari l'oscillazione grosso modo è tra il 7 e il 15% del volume più significativo rispetto ai dati del bio sì più significativo certamente ecco un altro aspetto che ti inviterei a valutare le vendite soprattutto di abbigliamento concentrate nei periodi di offerte di sconti secondo te sono solo ed esclusivamente un segno di ricerca dello slow price cioè del risparmio oppure nascondono una come dire capacità da parte del consumatore di divenire autonomamente a dare il giusto prezzo a ciò che compra cioè si rifiuta di comprare la gonna o la camicetta a 300 euro perché ritiene che non li valga e però magari compra sempre quella camicetta a 100 euro perché ritiene che 100 euro sia un prezzo accessibile oppure secondo te è solo appunto una questione di risparmio di spese io penso che ci siano molte adesso bisognerebbe trovare qualche specialista di marketing dell'abbigliamento però mi dicono ad esempio i colleghi che sono specialisti che uno dei problemi è che c'è poca innovazione nella moda adesso qui ci sono molte ragazze giovani io non so ma insomma forse tutti noi abbiamo addosso dei capi di abbigliamento non di quest'anno ma nessuno è fuori moda la scarsa innovazione nella moda fa sì che sia molto più facile comprare in saldo perché se il vestito non è completamente diverso diventa abbastanza inutile comprarlo a prezzo pieno grosso modo gli ultimi anni non hanno cambiato molto gli stili di abbigliamento e quindi la scarsa novità la scarsa novità proprio innovazione nella moda la scarsa novità fa sì che insomma se io devo comprare una gonna grigia più o meno più o meno è quella poi c'è anche un'altra politica perché poi dobbiamo guardare anche gli altri attori che sono i produttori i distributori cioè se i saldi diventano sempre più lunghi e se i periodi di offerte speciali diventano sempre più intensi e poi il consumatore è difficile davvero che compri a prezzo pieno perché si sente anche un po' stupido se lo fa cioè nel senso che la distribuzione ci sta abituando all'offerta speciale che magari poi è una manipolazione perché l'offerta speciale vende al giusto prezzo quel prodotto mentre invece il prezzo pieno è gonfiato però è anche vero che se la distribuzione agisce in questo modo il consumatore si abitua a comprare a prezzo ridotto la sua percezione è di maggiore razionalità perché compra a prezzo a prezzo ridotto tre anni fa abbiamo fatto una ricerca nazionale col Cermes Bocconi sul consumatore e la crisi in cui è venuto fuori in maniera molto chiara che i consumatori a cui era stato chiesto come secondo loro hanno reagito le imprese di produzione e di distribuzione alla crisi i consumatori hanno risposto al 75% solo con politiche di prezzo quindi non con innovazione non con politiche di prodotto ma con politiche di prezzo i pochi che hanno fatto delle politiche di prodotto hanno avuto molto successo i piccolini barilla ad esempio oppure le ricariche emulsio per i detersivi cioè chi ha innovato ha avuto successo chi ha fatto delle politiche di prezzo appunto ha abituato i consumatori a comprare a prezzo ridotto ed è evidente che insomma adesso siamo tutti i consumatori nel campo dell'abbigliamento si compra a prezzo ridotto direi 6-7 mesi l'anno più o meno tra le offerte le pseudo chiusure ai negozi gli svuotamenti ai negozi o i saldi eccetera eccetera grosso modo la metà dell'anno forse un po' di più si compra a prezzo ridotto il che ovviamente disincentiva fortemente a comprare a prezzo pieno ma diventa una questione psicologica proprio in cui il consumatore si sente stupido se compra a prezzo pieno a meno che proprio non abbia una necessità impellente che pospone l'acquisto io ti continuo a tempestare di domande per cercare di aprire una breccia nel tuo scetticismo ma le auto ibride allora le auto ibride sono in Italia certo una nicchia insignificante ma su mercati più avanzati in California ad esempio rappresentano ormai una fetta di mercato significativa eppure sono auto normalmente più care rispetto alle auto normali sì sì parliamo però anche della California parliamo anche del tempio dell'ambientalismo perché insomma poi le culture locali contano le culture locali contano parliamo anche della California dove il carpool è molto diffuso mentre da noi no no cioè quindi l'ambiente il contesto è molto importante niente sei il remo no sono dei segnali sono dei segnali sono dei segnali solidi ecco magari voi potete dare altri spunti su 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 consumi buonasera guardi dunque i gruppi d'acquisto allora io ho parlato dei gruppi d'acquisto solidale perché sono quelli non orientati al prezzo nel senso che per valutare la solidità di questo modello della post-crescita escludiamo tutti i gruppi d'acquisto collettivi che sono quelli che si formano proprio per ridurre il prezzo dei loro acquisti i gruppi d'acquisto solidali sono un fenomeno molto interessante io li ho anche studiati a livello empirico c'è scritto sopra sono molto concentrati appunto in quella parte dello schema le caratteristiche socio-culturali dei partecipanti dei gruppi d'acquisto solidali sono delle caratteristiche simili a quelle dei portatori del modello della post-crescita cioè livello di istruzione alta lavoro a tempo indeterminato dipendente in prevalenza forti valori o religiosi o politici e sicuramente questa modalità di consumo questo modo di consumare insieme perché poi il consumare l'acquistare insieme di solito genera tutta una serie di attività relazionali molto spesso i gruppi d'acquisto poi danno luogo poi ad altre o attività collettive oppure a banche del tempo insomma normalmente sono un po' degli incubatori di altre attività che richiedono appunto una forte componente valoriale e un forte lavoro di consumo e quindi sì sono d'accordo sono molto interessanti in questo momento i gruppi d'acquisto solidale sono veramente dal punto di vista dimensionale molto una nicchia molto piccola mentre i gruppi d'acquisto collettivo invece crescono più rapidamente perché non hanno bisogno di questo aspetto appunto valoriale culturale di condivisione e staremo un po' a vedere che cosa che cosa effettivamente succederà ecco invece parliamo di una comunità un po' meno di nicchia quella cioè dei social network e della funzione dei social media nell'evoluzione del consumo e del consumatore nel senso di una maggiore consapevolezza questo forse è un aspetto che va attentamente analizzato perché è forse qui un volano di crescita della consapevolezza del consumatore questo sicuramente sicuramente offre opportunità molto ampie mette in relazione con persone molto lontane accresce il numero dei cosiddetti legami deboli però lo accresce in maniera significativa con tutta una serie di problematiche tuttavia la prima è veramente quella del digital divide in cui noi parliamo di internet per tutti però di fatto è un internet ancora per pochi e oltretutto un internet che difende molto poco le nuove povertà cioè paradossalmente i consumatori o i quasi consumatori sotto consumatori che avrebbero molto bisogno di internet sono quelli che poi non sono connessi ad esempio tutte le fasce di anziani a pensione minimo a pensione bassa sono quelli cosiddetti disconnessi e loro sì che avrebbero bisogno di più informazioni e poi ci sono altre problematiche la prossima settimana ci sarà professor Cagliano che se sollecitato ve ne parla perché il suo gruppo sta studiando questa questione cioè il non controllo delle informazioni su internet perché è vero che mettersi in relazione con altri consumatori e poter accedere alle informazioni può aumentare la consapevolezza però le distorsioni delle informazioni senza controllo possono creare dei problemi molto grossi ad esempio negli Stati Uniti in cui questo utilizzo è un utilizzo più elevato che da noi e incomincia a nascere il problema dell'autodiagnosi dall'assunzione di farmaci comprati via internet senza recetta medica in cui il blog del consumatore o la rubrica dedicata che appunto di 16 questi sintomi prendi questo porta poi a tutta una serie di problematiche che sono anche pesanti sul welfare perché possono determinare un po' come il cibo low cost porta delle problematiche di tipo sanitario anche l'utilizzo di internet in un certo modo con informazioni prive di controllo cioè io credo che su internet bisognerebbe riflettere su due aspetti cresce la consapevolezza del consumatore sì io risponderei sì però cresce anche tantissimo la possibilità da parte delle aziende di manipolare i consumatori attraverso internet e quindi c'è questa doppia faccia e obiettivamente internet in questo momento non è governabile un ambiente che non è governabile perché non c'è una normativa non ci sono dei controlli non c'è un organismo sovranazionale che può governare la rete è foriero di molti rischi bene mi pare che abbiamo affrontato un insieme di aspetti di punti di vista di prospettive davvero importanti e se non ci sono più domande ci vediamo la prossima settimana con te col professor Cagliano tu tornerai ad assistere e parleremo del denaro quindi cambiamo anche l'addobbo della sala grazie arrivederci